Sapore di sale, odore di cane! Lasciala stare quella leva! Salve a tutti i sopravvissuti e bentornati su ODT! Nella scorsa puntata eravamo riusciti ad arrivare alla fine del primo livello e a sconfiggere il golem di pietra, ovvero il primo boss. Tra l'altro eravamo riusciti anche a recuperare un incantesimo di fuoco nascosto dietro un angolo e a recuperare una vita nascosta sotto quella botola che poi è crollata e ci conduceva all'episodio successivo. Nascosta, devo dire, in maniera veramente malefica. Che cosa succederà adesso? Buona visione! Al risveglio mi sono trovato di fronte a uno strano essere. In modo misterioso mi ha spiegato che tanti anni fa i suoi antenati e il loro malvagio sovrano regnavano sul mio popolo dal loro palazzo sospeso nel cielo. Fino a quando era essere una grande torre per raggiungere e sconfiggere il tiranno. A Puccia. Ah, bene ragazzi, ben ritrovati al centro dell'azione. Dunque fatemi riprendere un attimo, compiando i comandi. No, la mina, ecco, a posto. Uh, Dio! Ecco, alè! Partiamo benissimo, ragazzi! No, dai, questa non vale, ricarico, cioè, dai. No, morire così subito. No. No, 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 già ci sto. Non ci sto, ragazzi, no, scusate Volevo solo riprendere un attimo Confidenza che comandi perché è già un pochino Che non ci rigioco, non volevo morire Così Però posso dire Ehm Apertura esplosiva Patum Allora, ragazzi, eccoci qua Fammi vedere un attimo l'inventario Perché ho visto che stiamo messi abbastanza Male di salute Ah no, ok Energia 14, 11 munizioni Blue, 5 di verde, un power up Per la pistola blue che ancora non possiamo Usare Però con la morale E no, non ci siamo ancora, vabbè 13 granate Un antidoto che io continuo a portarmi Dietro ma non so cosa serva Ehm, uno psichei Anzi, due mi pare di averne recuperati La bussola Un pezzo del contenitore che in questo livello Se non vado errato raccogliamo il secondo pezzo del contenitore Eh, 8 bottine di gas E 8 mine Direi che possiamo Eh, procedere Nella nostra ventura Si saltava con il cerchio No Non era questo Oddio no, karma, karma Via, 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 via Mori, mori, mori Mori, mori, mori Allora Io volevo saltare col cerchio Ho attivato la leva Nel mentre Mi è arrivato il karma da dietro Che voleva farmi manz Vabbè Eh, solo su Wrex Games Un'altra bottiglia di gas Raccogliamo Mi sono incastrato sotto gli scalini A posto Dai Eh, dai Ti incastro Oh, si sentono Tre mesi che non tocco ODT E li sento tutti Oh Un camminare in diagonale Chi sta guardando questo video Ci avrà già il mal di mare Nei primi 30 secondi Allora Qui Inserisci la scheda magnetica blu Sì, ok Qua troviamo una serie di nemici Nuovi Eee Tra cui delle macchine Che fanno anche piuttosto male Tipo quella là sarebbe una torretta Che potrei usare Però prima che mi sono arrampicato Tutte le torrette che sono intorno Mi hanno già sparato A vita Eh Sì, è dietro al muro Cheater È un cheater Che spara attraverso i muri Bem Ottimo Ok, l'ho fatto fuori Questo mi ha Ho sentito un rumore Di quando ti sgancia qualcosa Rompiamo queste Mala raccolta Ok Ah, la mala La mala mi serve per l'incantesimi Anche se Vabbè È più quella che consumi Che quella Che Ecco Munizione verde raccolta Sapete che io in tutto questo Tempo Non ho ancora Avviato La registrazione dell'audio Lo faccio adesso Bene Bene ragazzi Bentornati su Vrex Games Io sono Vrex Rompiamo Gli sportelli Dovresti sentire L'audio leggermente migliore Eccoci qua Queste torrette qui Fanno piuttosto male Devo fare attenzione A non farmi beccare E fa anche Vediamo un po' Se così ci arrivo Più basso Sì Mori 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 Fanno malissimo Non so se avete Di Oh Oh Allora io direi di fare Così Dimmi che c'è un po' di salute lì No No Non vale Non l'ho preso Mori Perché contro le macchine Ci vorrebbe Il frizzino Frizzello Verde Il problema È che ce l'ho A livello A livello 1 Sì E non gli farà Assolutamente nulla No No Attaccarmi In 5 Non vale E poi c'è anche il carb No Eh sì Vabbè Questo ragazzi è potenzialmente Uno dei livelli più incasinati All'inizio Perché Sono ancora sprovvisto di roba E di power up Importanti Che ricoprerò più avanti Tanto qua Ho preso due laserate Sul cotrione Scappa 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 Scappeschi Scappini Scapperini Via via Ce la faranno i nostri eroi A superare quella parte Io sono messo malissimo Assolutamente Ce n'ho 7 Incantesimo acqua Che incantesimo acqua Sarebbe Cioè Cosa Ho scudo Proviamo con lo scudo Ragazzi Proviamo con lo scudo Vai Forse lo scudo Vai 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 Ancora spara Spara Spareschi Spareschi Sparini No Aia Vai Dai 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 Oh Uh Lo scudo È Molto utile Non è tra gli incantesimi Che uso di solito Ma devo dire che In questo contesto Ha fatto il suo Uh Ho visto una cosa Con i raggi X O ho visto male Uh Eh no Vedo qualcosa C'era qualcosa Cos'è? Una freccia che indica In giù Eh Lì allora ci si va Dopo Io qua Da questa parte Da queste parti Ma Eh Quella qui Dovevo recuperare Una scheda magnetica E poi tornare indietro Dove per sbaglio Prima ho tirato la leva Però Come vi ricordo Questo è un gioco Maledetto Perché ti nasconde Le cose In bella vista Lì Vedete qui ci sono Tipo una 5-6 Barili esplosivi Adesso lì Dovrebbe rompersi il muro Esatto Visto? Si è rotto il muro Quindi Zona segreta E come minimo C'è un karma Dietro l'angolo Fammi un po' vedere Carichiamo bene La pistola Sono messo male Anche a munizione Speriamo di trovarla In fretta Ah no Non c'era il karma Ok Una munizione Ok Ah qui c'è Il volante del sottomarino Che mi apre questa porta Ecco qua arriviamo a uno Dei primi misteri del gioco Questo È il boss Del secondo livello Ok Proprio te lo sbattono in faccia E ci sono accompagnati A questo A questo Murales in terra Tre simboli Una gruccia O una caffettiera No sembra più una gruccia Comunque Una caffettiera Quella là Una mocha E un 6 Ora Siccome io dovrei andare qua E premere questi due tasti Che da gialli diventano rossi Al simbolo Della Gruccia Cioè quello lì A cosa mi servono Perché gli altri due Poi li troverò più avanti Ma non ho capito A che cosa A cosa servono Se lo Indeboliscono In qualche modo Se mi sbloccano Un bonus Non ne ho idea Questi sono i misteri Irrisolti Dei giochi sconosciuti Che essendo sconosciuti Nessuno ti può dare La risposta Ok mettiamo la scheda Inserisci la scheda magnetica blu Vai L'ho inserita? Dovrei Dovrei averla inserita Ma tu Da dove? Ah che scemo C'era la porta qui Vero Che poi blu E c'ha la striscia gialla Mi garba Comunque prima di proseguire Volevo farvi vedere La torretta Come potete vedere Ci mette tre ore Per arrivare in cima Quindi sarebbe stato Veramente impossibile Io vado qua Noi Non spreco nessuna munizione Anche molto potente Ma posso girare 360 gradi Però Prima di salirci E usarla Mi hanno già smitragliato 50 volte No Cosa si nasconde Dintro qui Nulla È bello così Ci piace Nudo e crudo Questo è il granatiere Un drone volante Che spara le granate Non è una cosa Molto divertente Eh sì E vi do Ufficialmente Il benvenuto All'ospedale dei robot Un'altra cosa strana Perché il golem di pietra Del primo livello Come ho detto Era un guardiano Degli schiavi Addetto al Cioè Sovrintendeva Agli scavi E aveva Cioè Praticamente Per evitare Che gli schiavi Scappassero Il livello Era disseminato Di trappole Buchi In cui poter Cadere Eccetera Nel secondo livello Abbiamo I robot Dentro Una sorta Di ospedale E questo È un trip Buga No Non posso fare Buga Allora devo fare Buga In un altro Modo Così Buga Questo si rompiva Che vedo degli sgraffi No Ok Mori mori Morici Morici male Ok Scoppia Munizione blu Sì Sale Dunque da qui Ci sono uscito Vero Sì Slack No 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 Bistia Dovrebbe essere Esploso il mondo In teoria Sì Infatti Ottimo Optimus Oh Eh no Così mi sa Che ci spreco Sulla vita Ok Carca miseria Guarda Fanno malissimo Quelle pistole lì Fanno malissimo Tre colpi E se c'è Senza vita Ok È permesso Ok Sapete qui cosa Allora Qui ci spiazziamo Una bella mina E poi si scappa Piazza la bomba E scappa Ok Ho una munizione verde Che però Queste verdi Mi servono A ben poco No No Eh mi ha preso Lo stesso Però Mori Scheda magnetica Recuperata Munizione blu Ok Da questo dato Abbiamo finito Abbiamo recuperato La seconda scheda Adesso dobbiamo tornare Prima dove c'era la leva Ficcare la scheda E andare di là Vai Dieci Adesso qui Sembra una cavolata Ma Quella piattaforma lì Adesso si muove Io ci devo saltare Sopra Senza mancarla Perché se la manco Finisco No Ma perché Il tasto Del salto Corrisponde Al tasto azione Eh si Buonanotte Ora devo aspettare Che torni indietro Che si è bloccata Di là Porca miseria Si è asciuta Si tirò la leva Sapore di sale Odore di cane Lasciala stare quella leva Madonna Lì Ora Ora No No Niente No Ma Ma lo vedi Ma lo vedi C'è No Salteschi salteschi saltini Dai dai su vai su vai su vai su Ok Scusate Non avevo più voglia di aspettare Molto semplicemente Vai No Dritto E' andata Oh ce l'abbiamo fatta Eh supera sta parte Maledetta quella leva E chi l'ha messa lì Allora Una domanda Bastanza ovvia Uno scende Si aprono le porte D'un ascensore Uno pensa Dove devo andare Devo uscire dall'ascensore No Devi fare un passottino Verso l'estero E non capirla all'indietro Ho trovato Una zona segreta Vedi dov'è che ti vanno A nascondere le robe Maledetti loro E' l'unica maniera Questa è una cosa che rompe L'unica maniera Per uscire da lì E riprendere l'ascensore Torna su E poi torna giù Allora Ho appena recuperato Un incantesimo di terra Morale troppo basso Però Posso alzarlo Adesso posso usare Si Posso usare Il power up Della pistola blu Perché abbiamo visto Che comincia ad essere Abbastanza deboluccia Adesso ce l'ho A livello 4 Si Ottimo E ho urgente Bisogno di cure mediche Perché altrimenti Il game over È assicurato Nonostante C'ho ancora 8 vite No Bestia Mostro Sudicio No Si è passato L'avete visto Come ho detto Che miseria Dunque Di qua S'andava Permesso Io sono venuto a consegnare un kebab Con tutto Salsa piccantissima Oh Mana raccolta Che questo qui Camperava dietro l'angolo Se ne stava lì in punizione Dunque Qui abbiamo una leva Intanto ormai questo è l'episodo delle leve E questa bellissima leva Azionerà delle trivelle di sotto Che dovrò accuratamente evitare Altrimenti si fa un panino di personaggio Cosa ci fanno delle trivelle In In un ospedale di robot Questo gioco Con questo gioco Ci potete fare Tutte le cospirazioni Che vi pare Però Prima di parlare Lì Ma di tutto Cosa c'è Eccoci Qui ci dovrebbe essere Un altro camperino Detro l'angolo E' un po' se ho ragione Eccolo Sì Mori 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 Morici malissimo Ottimo Punizione verde E ho trovato il pod di salvataggio Siccome vedo dal timer Mancano ancora 10 minuti Prima di staccare Oh perché non la prendi Io direi Di lasciarlo Di tornarci dopo Anche perché vi ricordo Una volta salvato Non lo posso più usare Quel pod lì Quindi io direi Che lì ci ritorno dopo Quindi ci dovrebbe essere Qualcosa di interessante La scheda che mi serve per uscire E già che ci sono Vi faccio vedere Anche un'altra cosa Piuttosto curiosa E interessante Guardate Eh sì no Eccoci Gas raccolto Eccolo lì Dove c'è quegli sgrafi in terra Devo andare lì a destra Da vedere Eccoci qua Zona segreta E qui siamo al secondo patacchio Con il disegno del boss in terra Qua siamo alla caffettiera La moca Questa qua In alto a sinistra Esatto Quella lì Andiamo di cazzotti Prendiamo le munizioni Energia raccolta E niente Premiamo anche questi due pulsanti Però ritorno a dire Che ancora una volta Non so Ancora una volta Torno a dire Che non so A cosa servono Allora qui come ci esco Vai Così ci esco No Ehi Maledetto Non so se l'avete visto Matrix No Bestioso Bestioso due volte Schianta Oh lo psichei Alla fine ragazzi L'ho scoperto Cos'è lo psichei Io Ricordate il primo Ecco Tirarei a primo E la spranga Questa la dovevo tirare Perché la porta Altrimenti non si apriva Se vi ricordate Nel primo episodio Vi ho detto Che non avevo La minima idea Di cosa Fossero psichei Se era una mappa Se era un disegno Eccola qui Praticamente Sono Dei pezzi Che vanno a comporre L'immagine Del gufo Della psignosis Ovvero La casa produttrice Del gioco Questo me l'hanno detto Alcuni ragazzi Che hanno una Che parlano in inglese Che hanno una pagina Su facebook Perché a quanto pare Il livello che io Non ho mai visto E Perché servivano Tutti i pezzi Dello psichei Cioè Un livello bonus Che è una ricostruzione 3D Dell'ufficio Della psignosis Questo ho visto solo Degli screen Perché proprio Non ne avevo idea Eh no Ragazzi Mi sa che qua Ci lasciamo le penne Vai Pestia 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 Oddio Ok Ok No Devo partire Quando tocca il muro Cioè Prima che tocchi il muro Tipo ora Ecco Ok Eh sì No 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 Assolutamente ragazzi Qua ci salutiamo Perché io Appena apro questa porta C'è solo le torrette Lì che mi Uccideranno Visto Neanche il tempo Di fare nulla Vabbè Se non altro Non mi tocca rifare Tutto quello che ho fatto Finora E la salute Ce l'ha di nuovo Da capo tutta Quindi Io direi Di distruggere Queste torrette Che ce ne sono due Una lì E una di qua a sinistra Andare a salvare E poi salutarci Ok Ricarichiamo la pistola Perché altrimenti Non ci facciamo niente Maledetto Eh Maledi Esplodi Mille frantuni Buono Ok ragazzi Al prossimo episodio Andiamo Magari senza questo Glitch grafico Davanti Andiamo da quella parte Proseguiamo con la seconda parte Di questo livello Appunto Vediamo se Riusciremo poi A raggiungere il boss Nel prossimo livello Ovviamente andremo a schiacciare Anche il terzo pulsante Era di qua Il pod Il salvataggio Sì Sopra da questa parte Di qua No Non era di qua Come l'ho detto Era di sotto Sopra da questa parte Sopra da questa parte Sì 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 eccoci ok ragazzi l'episodio è durato un po' meno 25 minuti più o meno però comunque vi avevo detto che cercavo di tenerli sulla mezz'ora però come vi avevo accennato nel vlog io non vi posso assicurare che sia sempre di mezz'ora il tempo dell'episodio io cerco di mantenermi su questo su questo su questa tempistica diciamo più che altro non dipende tanto da me perché non posso salvare quando mi pare ma posso salvare soltanto quando trovo il pod di salvataggio quindi posso trovarla a 15 minuti come a 20 come a 25 se non lo trovo prima dei 30 faccio un save state con la tastiera che tramite emulatore si può fare e pace quindi ragazzi io spero che questo episodio vi abbia quantomeno incuriosito perché ci sono diverse cosette su cui ragionarci diversi misteri da svelare insomma ditemi voi che cosa ne pensate di questo strano ospedale dei robot con tanto di trivelle incluse che escono dalle pareti e noi ci becchiamo al prossimo episodio di ODT e noi ci becchiamo al prossimo episodio di ODT e noi ci becchiamo al prossimo episodio di ODT